Come fare più FPS su Fortnite? Come puoi vedere ci sono all'incirca sugli 89-90 FPS ma grazie a questo metodo sono riuscito a fare 100 FPS in più. Quindi in questo tutorial ti spiego come aumentare gli FPS sul tuo computer, quindi migliorare le prestazioni su Fortnite grazie anche al programmino che si chiama NVIDIA Profile Inspector che funziona solamente per le schede grafiche NVIDIA. Andremo a fare un overclocking sulla scheda grafica attraverso il programma NVIDIA App che ti ho lasciato in descrizione. Basta che modifichiamo la grafica sul gioco da video valore consigliato lo mettiamo direttamente su prestazioni e facciamo ottimizzare. Come puoi vedere io avendo una scheda grafica RTX 3070 ho anche l'impostazione quindi ho questa configurazione dell'NVIDIA DLSS che è ottimo e ho messo su prestazioni modalità di rendering DirectX 12 noi andremo ad avviare il gioco in modalità di rendering DirectX 11 sui tre puntini. Gestisci opzioni di lancio clicchi qua sopra e vai a scrivere trattino di 3D11 così facendo andrai ad avviare il gioco in DirectX 11. Se l'ho avvi in DirectX 12 la qualità è perfetta, ottima qualità ma fai pochi FPS. Quindi se vai sui tre puntini vai su opzioni. Scegli del DirectX 12 rimuovila. Texture d'altra risoluzione toglila. Non servono a niente questi 20 GB per migliorare la qualità sul gioco. A me interessa solamente prescarica le risorse trasmesse e basta e faccio applica. Ora, andiamo direttamente sul programmino NVIDIA Profile Inspector. Estrae il pacchetto con WinRAR. La cartella. Ovviamente io questo metodo, ovviamente questo programma non lo uso quasi mai. Mi arrancio sempre con le impostazioni di Fortnite, quindi sempre su grafica e schermo. Però se tu vuoi usarlo puoi andare direttamente qua sopra e vai a scrivere Fortnite. Si collega direttamente al percorso file Fortnite Client Win64 Shipping nella cartella del gioco. E di fine giù fino a trovare Anti-Aleusing, Transparent Super Simply. Ti consiglio il 04. Se invece vuoi ridurre ancora di più la texture su Fortnite metti il 08. E se invece vuoi divertirti a testare questo programma su tutti i giochi, anche su Fortnite, ti metti anche sul 100 e vedrai Fortnite tipo stile Minecraft. Una grafica proprio stile Minecraft. Però gli FPS saranno veramente moltissimi. Io lo tengo su 04. Scendi fino a giù fino a trovare Texture Filtering. DirectX metti più 2, 7500 tutte e due. Molta fatto, fai applica. Applica più volte. E poi un altro consiglio che vi posso dare è che su Fortnite ti consiglio di mettere tutto ridotto tranne la distanza visuale che devi tenerla alta. Sennò avrai problemi a vedere i nemici da lontano. Quindi grazie a tutti per questa visione e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao.